Scende il numero dei positivi registrati nelle ultime 24 ore, sono 122 pazienti, dei quali 50 di Gela, 30 di Caltanissetta e gli altri distribuiti nei vari paesi della provincia e intanto aumenta anche se di poco invece il numero dei ricoveri. Sono 51 i pazienti ricoverati, malattie infettive, non c'è ancora nessun paese che non ha positivi, sono tutti paesi che hanno dei cittadini positivi, sono tre i cittadini di buon pensiere positivi, il paese con il minor numero di contagi, mentre quello con il maggior numero è 1172 a Gela più 13 ricoverati. Per ciò che riguarda Caltanissetta sono 742 i positivi, comunque un numero in ribasso e invece ci sono 14 ricoverati. Il reparto di terapia intensiva è ancora chiuso, sono in tutto 3633 i positivi registrati in tutta la provincia e come si diceva 51 i positivi ricoverati in malattie infettive, dei quali 4 sono pazienti provenienti da fuori provincia. Grazie a tutti.